Il momento in cui sono cercando di capire tutto quello che significa la moda, come si lavora. Per me, per il mio lavoro è un po' difficile assistere a questi eventi per questioni di tempo, però mi fa piacere poter essere qui, accompagnare anche la mia ragazza a questa sfilata e sono molto curioso di quello che potremo vedere. Grazie. 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 Grazie.